Erick, una bella vittoria, squadra con energia per 40 minuti, Bergamo non vi ha mai messo in pensiero stasera. Il nostro obiettivo era quello di tenere Bergamo a un ritmo più elevato, al nostro ritmo, anche se loro hanno provato più e più volte ad abbassare la nostra intensità, perché noi comunque giochiamo molto sulla nostra intensità, però siamo riusciti a limitare i loro giocatori più forti, a tenere il rosso ritmo e rientrare dopo il secondo quarto sempre con energia e intensità e quindi per fortuna l'abbiamo portata a casa. Hai dovuto per forza di cosa aspettare a entrare negli schemi, nel gioco, nella squadra? Adesso ogni politica che passa si vede sempre di più il tuo zampino, chiamiamolo così. Ti chiedo come stai e come ti trovi con i tuoi compagni? Con i miei compagni super, sono ragazzi super umili e abbiamo fatto un ottimo gruppo, sicuramente per me rientrare dopo sei mesi di stop è stato un attimo un po' difficile, entrare nei giochi anche, ma questo è per forza di cosa, anche perché sendo stato fuori più di un mese e mezzo, dovevo entrare in tutti i meccanismi e anche nella dinamicità del gioco. Ora sono in fase di recupero, non sono al 100%, si vede, ho energia un po' limitata, però comunque il fatto per me di essere già sul campo dopo comunque un recupero così veloce e di poter già iniziare a fare le cose facevo un tempo, è già un bel traguardo. Ora siete i primi in classifica da soli, dove vuole arrivare questa squadra? L'essere i primi in classifica è un bel risultato ma non ci deve far sedere perché questo campionato è un campionato insidioso, le squadre è comunque un campionato dove non sai mai, ogni partita è una partita a sé, quindi non dobbiamo sederci, dobbiamo sempre giocare come se fossimo a metà classifica, ultima classifica, con la stessa energia di una squadra che deve giocarsi l'ultimo posto possibile per entrare nei playoff, quello è il nostro obiettivo. Quindi ti dico, noi pensiamo di giocare una partita alla volta e sempre con l'obiettivo di vincerla.